E state in vista? Zanzare in arrivo? Bene, ecco come proteggere il tuo bimbo dalle zanzare a cura della nostra super pediatra. Prima di iniziare lasciate però che ci presentiamo io sono Matteo Silva, osteopata pediatrico. Io sono Pilar Nannini, pediatra. Benissimo Pilar allora sta arrivando l'estate queste zanzare birbantelle stanno iniziando a punzecchiare come possiamo proteggere i nostri bambini? È importante proteggerli perché la zanzare effettivamente dà delle punture che sono molto fastidiose e soprattutto nei bambini più grandicelli possono determinare grattamento e sovrainfezioni cutanee. Quindi è molto importante proteggere i bambini soprattutto se prevediamo anche dei soggiorni all'estero dove le punture di zanzare sono molto frequenti e molto comuni. Prima dei sei mesi di vita è opportuno utilizzare delle protezioni fisiche quindi non utilizzare dei prodotti chimici che possono essere spalmati sulla pelle ma utilizzare sempre mezzi fisici come coprire i bambini adeguatamente con i vestitini sempre di fibra organica e utilizzare le retine quindi anti zanzare da porre sulla navicella. Evitate sempre i momenti del tramonto che sono i momenti in cui anche durante una passeggiata fuori all'aria aperta le zanzare si concentrano più frequentemente e possono più frequentemente andare a pungere. Nei bambini più grandicelli si possono utilizzare determinati prodotti che sono solo ad uso topico quindi locale e cutaneo che possono essere applicati sulla cute ci sono diverse formulazioni in spray oppure in crema e possono essere molto utili. Ci sono alcune formulazioni che regolano la traspirazione della pelle e ci sono formulazioni più specificatamente pensate per tenere lontane le zanzare. Confrontatevi sempre con il vostro pediatra di fiducia prima di acquistare qualsiasi tipo di prodotto e preferibilmente utilizzate rimedi naturali per esempio nel bambino piccolo anche un sacchettino di lavanda che è un anti zanzare naturale può essere efficace da applicare sulla culla per tenere lontane le zanzare più frequenti e più comuni. Bellissima chicca non la conoscevo. Grazie mille Pilar di essere rimasta con noi e di averci dato queste informazioni preziose. Grazie a voi per essere rimasti con noi. Vi chiediamo di lasciare un like a questo video che di sicuro vi è stato utile e ci vediamo nel prossimo. Un abbraccio!